Ciao ragazzi Potere di attaccare Ok adesso possiamo attaccare In che modo? Premi S Ho Hi Warriors What's up? My name is Rex71 E siamo qui su Rayman Origins Si lo so avevo scritto Che dopo Long Survival Ci sarebbe stato D-Rester Solo che ho avuto dei problemi con D-Rester Quindi finchè mi risolve ho dovuto Togliarlo dalla scatetta e metterci Rayman Origins Ditemi voi se preferite questo D-Rester In ogni caso andiamo ad iniziare subito Questo fantasmagurissimo gioco Dove? Un attimo Ok perfetto Questo gioco salva l'Italia? Quindi gioca Nuova partita Con i faccini sorridenti che girano Molto alla Tarzan Con Un Tipo che Fa dei palloni Uno che tenta di Ispirare una zanzana Rayman che mangia Oddio Oddio Che diavolo sta succedendo qui? Si è in fondo all'albero Ovviamente c'è una rottura di coglioni in fondo Non ce ne fotte un cazzo proprio e continuiamo Tipo c'è la palla Ok Si direi che è ora di Di massacrare No 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 la testa del nonno No la testa del nonno no dai Ok 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 Ah ok Combattimento frenetico Ehm Terribilissimo Che finisce con Ovviamente la sconfitta dei nostri eroi Come dei gran coglioni Complimenti Ehm Solo che ora Oh Posso muovermi Ah Con barra spazzatrice Vai 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 Ok perfetto Ehi tu Eroi schiaffoide Oh scusate ho preso il microfono Sembra che il vecchio ma adesso stia di nuovo facendo bolle eh Questa volta ci vorranno un sacco di electone per sistemarlo Mmm Mmm Oh Si Posso tipo staccargli la testa No eh Quindi di la c'è Se vado di qua Oh che c'è qui eh Oh Salve Devo Devo Finalmente Un po' il mio movimento natura Hai risvegliato i morti libidi solo perché dormivi sul lavoro Indy no niente quel duro che ci deve fare non ho letto scusa non ho letto si quel duro che ci deve fare fa la guardia alla strada verso la terra dei morti libidi ah ok ok ho capito quindi dovremmo prima completare del quest per poi andare lì e andare dei morti libidi si si ho capito ci vorranno un sacco di electun per sistemarlo oh simpatico torna alla radura dei sogni wow oh ok albero sbadigliante giungla del farfugio è una giungla da fuori beh ovvio si chiama giungla del farfugio così è una giungla da fuori ui 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 ok ma finalmente non è male devo dire è molto vabbè lo stile di raiman è sempre quello ok mi piacciono questi 2d a scorrimento ha una zoccola in gabbia andiamo a recuperarla andiamo oh 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 cribbio ah sa oh cazzo di qua oh cos'è questo oh qui sotto che oh cazzo oh ho trovato qualcosina cos'è questo oh un cuoricino ah becca di questa no oh merda ok fa niente quindi ora che diavolo sta succedendo qui no mi sa che dovevo recuperarli tutti i blu vabbè tutti i rossi volevo dire vabbè fa niente che cavolo di gioco pazzo idea questa oh ok oh oh fermati un attimo allora perfetto ha zoccola si libera oh yeah hello lady potere di attaccare ok adesso possiamo attaccare in che modo premi s oh ta ta oh mio dio oh povero tipo stiamo spaccando i denti con questo oh ok torniamo di qua perfetto oh mio dio uno di come ti permetti schifoso essere in mondo oh ciao cioè è terribilmente stupido come gioco ma lo stesso molto divertente oh oh mio 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 ok perfetto qui no ah credo debba perfetto oh oh mio sono un genio ok credo che prima o poi debba prendere anche un doppio salto ma non lo so ah oh attenzione attenzione oh no 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 che sì ok ok sì ce l'ho fatta sì coglione becca di questa ora mi domanda è nooo sono morto come un coglione però potevo prenderlo come diavolo ok miei ce la faremo ragazzi ce la faremo a prenderli tutti sì vieni qui pof ah 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 il solito rayman paccioccoso no mio eh che cribbio ok qui ok nooo e adesso come minchia faccio a prendere quello ah bella domanda wow ma sì ma vieni ma subia sono un grande ah ok ah sì quelli sono quelli che sparano i razzi sì ma li ricordo dopo dal primo rayman sulla playstation 1 gran be ricordi no mannaggia ok ora ha rotto i coglioni sì ahhh sì bene qui uccide bah che diavolo è questa roba vai due vediamo se arriviamo a 150 sì ci dovremmo arrivare a 150 dimmi che ci arriviamo ok ok basta divertentissimo comunque scusate un attimo ok scusatemi era stavo andato a vedere una cosa siamo qui geyser esplosivo come gioco non è niente male devo dire che mi piace molto anche se so quanto oh cappellino quei becroni sono i loom carichi di energia i loom si rivelano piuttosto illuminati per chi sa usare la loro energia quelle cosine tonde e luccicanti sono teschi o moneta sì ogni tesco moneta vale 25 oh becca un e dai fuoco ai suoi sudditi prendili finchè sono caldi loom due per uno offerta eliminata offerta limitata oh ah beccate eh domanda ah no in sotto non c'è niente pensavo ci fosse ah vabbè ok niente oh se se su vai loom ah no con s ok perfetto ok ora devo solamente oh mio dio cos'è quella roba la sotto ah infatti ho fregato schifo qui sì e ora e lucchietto vai ah un signore dei loom li ho presi tutti, no? dovrei averli presi tutti, credo presi tutti un'altra volta? no? giusto? dimmi con ragione che li ho presi tutti un'altra volta qui che c'è? qui forse c'è? ma sono troppo forte uno due tre quattro preso, ho tre e ne devo liberare oh mio dio direi perfetto comunque grazie per la manina compare comunque cosa vi volevo dire no 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 sono troppo forte wow ok ragazzi miei direi di concludere qui questo video-complay Ci vediamo sempre qui sul canale posto Rax91 Per nuove ed entusiasta smantissimi video gameplay Sempre qui con Rayman Origins E con altri ed entusiasta smantissimi video gameplay ovviamente Quindi ragazzi e me ci vediamo sempre qui Per il vostro Rax91 Ciao a tutti ragazzi Oh poor damn I got no choice but to take him down Sul serio? Ah va bene Vai 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 1, 2, 3